Oggi ci troviamo nei vigneti della provincia di Sondrio ed esattamente a Monastero di Berbenno. Qui si sta svolgendo la vendemmia che è circa metà, ma subito chiediamo agli esperti che stanno lavorando sul territorio qual è la qualità delle uve che stanno per essere raccolte. La vendemmia ad oggi sta andando piuttosto bene, speriamo che il tempo tenga perché hanno messo quattro giorni di perturbazioni, quindi preghiamo, però sta andando bene, siamo circa a metà, al 50%. Come si presenta quest'anno l'uva? L'uva quest'anno si presenta per la poca esperienza che abbiamo noi come azienda, perché siamo giovani, come un'annata storica, mi viene da dire, le vecchie annate della Valtellina, la più tardiva delle ultime quattro che ha fatto. Però l'uva ha un bel colore, è abbondante, nonostante le stime in Italia dicano che ci sia una contrazione importante rispetto all'anno scorso, secondo me è abbondante, bisogna scegliere, scegliere e suddividere le varie tipologie vigneto per vigneto. Quanta uva viene raccolta al giorno? Noi raccogliamo dai 4 ai 500 chili di uva al giorno e dobbiamo fare 400 quintali di uva, quindi per noi è molto lunga, dura due mesi la vendemia. Quale vino verrà prodotto? Vediamo, i vini si suddividono in base alle sottozone, quindi sicuramente noi produciamo sassella e valtellina superiore, però per ogni vigneto suddividiamo l'uva in tre tipologie, quella più grossa, più succosa e meno matura che utilizziamo come nebbiolo da vinificazione in bianco, ovviamente vendemmiata a cassette, quella un po' più matura, un po' più scura, ma comunque grappoli di dimensioni abbondanti che va nell'IGT rosso, diciamo nei rossi da tavola, rosso di valtellina, e invece la rimanente frazione che resta un po' più a lungo in pianta, si tratta di circa un terzo sul totale che viene poi destinata ai valtellina superiore a sassella, vini di qualità superiore. È già possibile fare un pronostico rispetto alla qualità del vino che verrà portato in tavola? No, la trovo difficile, ho bisogno di assaggiare il vino tra un paio di mesi, di guardare il colore, di sentire il tannino prima di potermi pronunciare riguardo alla qualità. Sicuramente la qualità sulla sanità delle uve è buona, quindi diciamo che mi viene da dire che l'annata può essere buona.